La settimana senza grandi problemi Per fare delle modifiche Erano tutte cose previste E che chiaramente ci mancavano Nel nostro book tecnico E quindi niente di particolare Giochiamo contro una squadra molto interessante A me piace come è stata costruita Si vedete che hanno cambiato un po' Filosofia rispetto all'anno scorso È diventata una squadra molto europea Molto meno americana Credo che sia stato questo Che ha spinto Basile e Baso A farsi tornare l'entusiasmo Per continuare a giocare a 40 anni Troveremo senz'altro una squadra Con grandissima fiducia Noi dovremmo Chiaramente fare meglio Di quanto abbiamo fatto Nelle uscite precedenti Cercare di avere una continuità Sui 40 minuti E non pensare che sia sufficiente Controllare per una parte della partita E poi adesso entriamo Chiaramente nel vivo Nel vivo della stagione Perché come dicevo già all'inizio Non avremo poi tantissimo tempo Le settimane prossime Per apportare delle modifiche E quindi conto che il lavoro fatto questa settimana Sia servito anche per mettere in condizione Soprattutto i nuovi Di trovarsi più agio Nelle nostre regole Nel nostro sistema Nel nostro affare pallacanestro Non avremo poi Grazie a tutti.